I camion raggiungono i distributori, la benzina comincia a erogarsi... Che è una vergogna, questa è una vergogna, non è un sciopero. Voi non bloccherete più, non potete più bloccare o no? No, noi continuiamo lo sciopero, lo continuiamo. Ma lo sciopero non consiste nel blocco dei... No, ma il blocco consiste da stasera a mezzanotte in poi. Cioè non passeranno i camion? Non passerà più nessuno, stia tranquillo. Siamo disposti alla qualsiasi cosa, tanto ormai siamo persi. In una maniera o in un'altra è un fallimento, non c'è altro che continuare. E spostare la protesta a Roma? Ci potremmo andare se ci farebbero arrivare, però siccome già sappiamo che quando si arriva a Roma ci portano allo stadio a vedere la partita. Allo stadio a vedere la partita? Tutto così, insieme alle albanese, rumene, hai capito? Quindi non credi alla protesta fatta a Roma, insomma? No, la protesta ognuno la deve fare nella sua città. Non ci dobbiamo spostare, è questo, qua la nostra città, qua. Però i camion hanno già raggiunto i distributori, insomma, c'è già la benzina in giro. Faremo in modo che non arriveranno mai più. Questo? Questo non doveva succedere.